Il divieto di TikTok negli Stati Uniti è più vicino che mai. Buongiorno e bentornati al Caffetino Podcast. Buon inizio settimana, sono Mario Moroni e qui davanti oggi la macchietta del caffè virtuale. Commentiamo la notizia e che notizia oggi sul mondo del tech. Parliamo dei TikTok, parliamo dei rumors, delle notizie, delle affermazioni, tutto quello che c'è dietro l'ultimo incontro del congresso tra TikTok e gli Stati Uniti. Dall'era Trump che si parla di bloccare TikTok, cancellare TikTok dalla faccia degli Stati Uniti, anche con un escamotage proposto anche nelle ultime settimane, ovvero vendere TikTok da ByteDance, la società controllata dal governo popolare cinese, a una società americana che ne gestisca la proprietà americana, stelle strisce. Ma chiaramente ByteDance e chiaramente la Cina non ci sta e il CEO rappresentante di TikTok, Shu Zee Cheng, è andato davanti al congresso per difendere la piattaforma da un divieto. Perché appunto gli Stati Uniti hanno detto o diventi americana, cara piattaforma, o noi ti bagniamo per sempre dappertutto. Con questo clima rilassato, giovedì scorso, il congresso ha ospitato il CEO di TikTok, Cheng, e anche i membri del congresso sembravano abbastanza frizzantini, tant'è che sembravano avessero già deciso che cosa pensare e qual era la loro decisione in merito alla legislazione. E quindi ci si è trovati in una situazione particolare, andatevi a vedere delle foto, dei video, andatevi ad approfondire, anche perché questo Cheng, questo CEO di TikTok, mi sembra un personaggio veramente tosto. Tra l'altro è un ex banchiere di Goldman Sachs, 40 anni, giovane, molto preparato e davanti a quelli del congresso mi è sembrato l'unico veramente preparato alla trattativa. Tutto sembra, in qualche maniera, dirottarsi verso un ban sempre più vicino. Ad oggi sicuramente il divieto di TikTok è più vicino che mai rispetto ad altri tempi. Un po' perché il mondo della politica americana è in difficoltà e quindi qualche cosa deve fare, diciamo così, pane del cheer change, deve far divertire un po' il pubblico. Un po' perché le proprie aziende tech, Facebook, Meta, bla bla bla, sono in grosse difficoltà e quindi se li tolgono anche delle castelle al fuoco non è male. E un po' perché TikTok non è totalmente immacolata. Ecco, lo sappiamo bene quali sono i business model di queste piattaforme. Attrarre contenuti, attrarre dati di minori e maggiorenni, utilizzarli e seguirli. Ma sappiamo anche bene però che con il caso Cambridge Analytica Facebook si è accordata con la Federal Trade Commission per 5 miliardi di dollari per quello scandalo. Chiaramente è stato uno scandalo che ha cominciato in qualche maniera ad attivare un dibattito per cui da una certa parte ci sono anche i democratici che fanno sit-in pro TikTok. È assurdo, mondo assurdo quello degli Stati Uniti. E dall'altra parte i membri del congresso non sono preparati. Cioè lo si vede, cioè che non è il loro mestiere. Dicono delle cose in maniera pretestuosa tanto per salvaguardare una forza politica, anzi un'ideologia politica. Comunque vado a finire, prendo in prestito le parole della deputata della Florida, Katie Castor, che non mi sembra abbastanza ampia. Dice, dalla sorveglianza al tracciamento alla raccolta dei dati personali e delle operazioni algoritmiche che creano dipendenza, che forniscano contenuti dannosi a un effetto corrosivo sul benessere mentale e fisico dei nostri figli. Le piattaforme big tech traggono enormi profitti dal mantenere i bambini dipendenti. Sono le moderne compagnie di tabacco e sigarette. Bene, cara deputata della Florida, beh, è chiaro, c'è anche questo argomento. Ma alla fine, come gli Stati Uniti hanno aggredito le compagnie del tabacco e delle sigarette? Spiegacelo un po', raccontacelo. Notate la mia velata ironia? È tutto, veramente c'è una cosa pazzesca, è tutto il contrario di tutto. Ma vi aggiornerò su questo caso, sono molto appassionato su queste dinamiche perché credo veramente che l'era dei social media sta finendo e probabilmente inizierà un'altra era e tra poco vi dirò anche un po' la mia opinione su questo. Ma teniamo, teniamoci sull'attualità, TikTok. E intanto voi cosa ne pensate? Buona giornata! Buona giornata!